Ciao a tutti, bentornati! Appuntamento mensile con le boxy Look Fantastic. Questo mese scopriamo insieme cosa c'è all'interno della boxy Look Fantastic del mese di giugno. Devo dirvi che sono molto contenta perché ho apprezzato tanto, oltre che il contenuto, anche l'idea, il concetto della boxy questo mese, perché si è ispirata molto all'estate, visto che insomma ci siamo, all'hanno pensata in questo modo, hanno voluto proporre questa box in questa versione, anziché le classiche boxy in cartone, hanno pensato a questa versione, in questa pochette molto carina, tra l'altro riutilizzabile anche come pochette, come portasolari, come beauty, insomma, utilissima, io l'ho apprezzata tanto perché magari al mare, dopo che sia comodo anche avere una pochette dove metterci all'interno tutte le creme, tutto quello che insomma occorre al mare. Andiamo però a vedere cosa c'è all'interno e scopriamolo insieme. Io in realtà ho sbirciato qualcosina, ma non mi sono soffermata tanto, quindi andiamo a vedere per bene cosa c'è all'interno. Mi piace anche come è fatta la pochette perché si apre in questo modo, quindi molto molto carina. Allora, c'è all'interno cose molto utili per l'estate, quindi prodotti utili per il mare, quindi io speravo in questo, quindi sono molto contenta. In vista dell'estate e quindi della futura esposizione al sole, c'è all'interno una crema solare 50, con protezione 50+. Allora, io, ve la faccio vedere, io in realtà non utilizzo la 50 per il viso, devo esservi sincera, anche se forse dovrei però, utilizzo la 30 per il viso e per il corpo magari utilizzo, quando sono un po' più bronzata, la 30, però la 20, però parto sempre con la 30. La 50 però la utilizzo per i tatuaggi. Insomma, visto che ne ho diversi, mi serviva in realtà perché quella che ho acquistato l'anno scorso, che è in stick, mi è terminata e poi comunque io l'anno successivo tendo sempre a cambiare, a comprare i solari nuovi, anzi vi consiglio di non utilizzare mai gli stessi solari per più di una stagione. Ho letto anche che sconsigliano apertamente di utilizzare i solari degli anni precedenti, quindi questo è un consiglio che do anche io a voi perché io tendo a fare anche così. Comunque, tornando a lei, è della Polar, è da 20 ml, quindi è una versione anche lei mini size, altissima protezione, senza profumi e fragranze, come sempre è tutto sigillato, quindi devo scartare tutto, però io sono curiosa, però senza profumi e senza fragranze, quindi... Però io mi ostino, non si sa mai, qualche piccola fragranza potrei anche sentirla, ma no, in realtà no. Io vi devo dire anche che per il viso avrei voluto iniziare a utilizzare la protezione 50 per il viso, questa qui è una 50+, quindi in realtà la totale non esiste, quando dicono protezione totale non è vero, perché un minimo il sole filtra, quindi è un po' uno specchietto per le allodule perché non esiste la protezione totale. Esiste la 50+, che è una protezione molto alta, però la totale, insomma, non date molto adito a chi vi vende, chi vi propone protezioni totali, perché non è vero. Di questo sono molto informata perché ho letto un po', e quindi vi posso dire che per quanto io mi sia informata, ho appunto appreso che la protezione totale non esiste mai, esistono le protezioni molto molto alte, la 50+, che in realtà, questa qui è la 50+, che è un po' più alta della 50. Quindi, dicevo, sono tentata di utilizzare la 50 anche per il viso, perché, insomma, penso che il sole faccia... Insomma, sto arrivando sempre più alla convinzione che l'esposizione al sole faccia male, temo sempre di più che la mia pelle inizi a risentire anche dell'esposizione, magari degli anni pregressi, e temo magari la fuoriuscita di rughe, motivo per cui, insomma, sono sempre molto attenta all'acquisto dei prodotti, quindi sono molto tentata, però, conoscendomi, andrei comunque sempre di 30, però non lo so. Sarà che magari gli anni passano e quindi devo prevenire sempre di più, però, insomma, vedremo. Vi dico che è un'idea che mi balena nella testa. Ci pensiamo, ci facciamo un pensierino. Altro prodotto che c'è all'interno, questo è comodo anche da viaggio, in vista magari del weekend, dell'estate, magari di una vacanza, trovo che sia utile. Allora, questo qui è un bagno doccia, è della Molton Brown. Io però devo sentire la profumazione buonissima, buona. Mi sa di un profumo che conosco, ma non so dirvi quale. Vediamo se c'è scritto di che cosa è fatto. Cypress & Sea Fennel, infatti sa di fresco, sa di una fragranza freschissima. E lui è il bagno doccia da 30... da quanto? Oddio, non riesco a capire. Da 100 ml, quindi neanche proprio piccolo. Certo, non è una full size, però è comunque da 50 ml. Scusate il riflesso, però è lei. Magari, piuttosto che portarvi dietro le super boccettone, cosa che io odio, soprattutto per i bagno doccia, le shampoo, preferisco portarmi dietro, sempre formati un po' più piccoli, infatti spesso li travaso, soprattutto le maschere per i capelli o comunque lo shampoo. Quindi trovo che sia molto utile anche questo. Anche apprezzato. Una cosa di cui sono molto contenta perché la mia Tangle Teaser ormai deve essere un attimino accantonata è una spazzola per i capelli della Marcheo Glow. Oltre che il colore è bellissimo. Ve la faccio vedere da vicino. Carinissima. È molto bella. In realtà questo Marcheo l'avevo già visto. Vediamo un attimino che... Com'è? Wow! Viste che i capelli hanno anche molto bene. Io poi utilizzo... Da quando ho scoperto la Tangle Teaser, queste spazzole sono per me la vita, perché sono stracomode e... Wow, bella! Non tira per niente i capelli. Vabbè, io poi li perdo, quindi ogni spazzolata vengono via 10.000 capelli, però non fateci caso. Molto contenta perché la mia Tangle Teaser ormai è andata, è abbastanza vecchiotta. Poi soprattutto anche perché magari facendo un po' avanti e dietro da casa mia, a casa del mio fidanzato, soprattutto nel weekend mi trasferisco a casa sua, quindi avere magari una spazzola anche lì, piuttosto che portarne anche la spazzola, una doppia spazzola la trovo molto 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 utile. Il mio ragazzo sarà felicissimo! Allora, altra cosa utile per l'estate è una protezione per le labbra 30+. Questa cosa è un'altra cosa di quelle che io d'estate l'acquisto sempre, un burro cacao, soprattutto quando mi espongo, per le labbra con protezione. Questa qui è la protezione 30, ed è la Ultra Sun, per lei. Di questa sono contenta. Proviamo ad aprirla, perché anche di lei devo assolutamente sentire la profumazione. Oddio. Sì, ci siamo. Io amo spacchettare, scartare. Bello, bello. Infatti ho aspettato due giorni prima di fare questo video, perché non ho avuto tempo, ed ero lì tentata, perché volevo aprire, volevo vedere, volevo sentire, volevo... No, io sono fatta così. E quindi ho aspettato, perché infatti ho riposto la box in un'altra stanza, perché per evitare che magari caressi in tentazione, e per fortuna ce l'ho fatta. Aiuto, io non riesco ad aprirlo. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ah, che bello. Allora. Un pochino profumata. Sì, allora mi dice, alta protezione, lip protection and care with argan oil and shea butter. Quindi burro di karité e olio d'argan, perfetto. Penso sia appropriato e penso sia indicato solo per le labbra, anche se dice lip protection and care. Sì, dovrebbe essere una protezione per le labbra, quindi utilissima, la mi serviva, quindi un altro acquisto che posso evitare di fare. Perfetto. Altra cosa che c'è all'interno, c'è una maschera per capelli, che va a... soprattutto per capelli colorati. Ed è questa qui, della Josh Wood Color Everything Mask. Sì, ed è lei. In realtà, devo dirvi, vi anticipo già, che fra un paio di settimane, anche meno, dovrei fare un riflessante ai capelli. Io non faccio tinte, però una volta all'anno faccio un riflessante. Per fortuna non ho ancora capelli bianchi, quindi posso evitare di fare tinte, ma i riflessanti, una tanto, magari anche una volta all'anno, due volte all'anno, li faccio. Quindi questo prodotto cade a pennello, perché è una maschera che va a proteggere i capelli, soprattutto colorati, che va a mantenere il colore dei capelli, quindi magari dei capelli colorati. Vediamo se mi dice qualcosa. Applicare su capelli bagnati e lasciarla in posa per 5 minuti. Quindi, ok, quindi una semplice maschera. Andiamo a sentire anche la profumazione. Molto profumata. Io poi, tra l'altro, ai prodotti per capelli ci tengo da morire che siano profumati. Sembra molto profumata. Non capisco gli ingredienti che ci sono all'interno. No, no, non capisco. Anche perché io non sono esperta di inci, devo dirvi la verità, devo imparare a leggere l'inci, non sono molto, molto esperta. Vi giuro che mi impegnerò. Comunque sono contenta, perché in vista di quello che andrò a fare ai miei capelli, questo prodotto trovo che sia davvero molto utile. In più, la mia maschera sta per terminare, quindi, insomma, se dovessi trovare amici bene con questo prodotto, magari potrei comprarlo anche in formato full size. Questa qui è da 30 ml, quindi pochi lavaggi, però, insomma, magari potremmo capire se può andare bene o meno. Ah, siamo alla fine. Abbiamo già finito l'ultimo prodotto. Ma sono sei prodotti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Cavolo, mi sembravano molto meno. Allora, è una maschera per il viso in tessuto, ed è la Aroma Blend Mosture Mask. Eccola. Altro brand che non conosco, chiaramente è scritto tutto in coreano, quindi non si capisce la mazza. Però va bene. So solo che ci sono dei fiorellini, quindi magari può esserci qualcosa alla rosa. magari mi fa anche piacere, se così fosse. Ah, infatti, Rosewood Oil. Bene. Rosa da mascata Flower Water. Quindi ha il profumo di rosa. Quindi io sono strafelice, perché sapete già, per chi non lo sapesse, io sono amante delle fragranze alle rose. È una maschera appunto con rosa da mascata, olio alle rose, quindi bene, bene, bene. Sono molto contenta. Per il resto non si capisce nulla, quindi per noi le maschere in tessuto fanno sempre comodo, ci piacciono, le usiamo, quindi sono molto contenta. Sono però un po' meno contenta perché la Beauty Box l'abbiamo svuotata. Mi dispiace, intanto continuo a pettinarmi i capelli, perché questa spazzola mi piace, mi sta piacendo. Mi piace come le districa, perché chiaramente i dentini sono fatti in silicone, come piacciono a noi. Bene, bene. Prossima volta magari Beauty Box ci metti qualche altro prodotto, anche magari per le prossime edizioni, ci metti qualche prodottino in più per noi? Che ci fa piacere? Non ci buffano questi sei prodotti? Scherzo ovviamente. Comunque, allora, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, di avervi chiaramente tenuto compagnia. Se così fosse, mettetevi un like, se vi va magari seguitemi sul canale, e se vi va anche, supportatemi anche con dei commenti, se volete interagire un po' di più, fatelo pure. A me fa soltanto che piacere. E vi mando un bacio grande, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!